Buongiorno sono Giampaolo dalla Pasolini Auto di Gussago in provincia di Brescia oggi vi presento questa strepitosa Land Rover Range Rover Sport 3000 Turbo Diesel HSE Dynamic vettura immatricolata nel luglio 2019, ha percorso 124.000 km naturalmente originali tagli andati presso rete ufficiale Land Rover, unico proprietario, vettura nazionale, top 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 di gamma allora il 3000 turbo diesel da 183 kilowatt 248 cavalli non paga sopra tassa monta ruota e lega da 21 pollici, pacchetto look nero, sospensioni pneumatiche, fari led sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il colore uno storm grey metallizzato veramente splendido abbiamo tetto gloss black specchi gloss black, vetratura posteriore privacy, baule posteriore elettrico, la vettura è pari al nuovo, veramente non sembra nemmeno aver percorso questi chilometri e nemmeno la metà addirittura. Gli interni sono praticamente perfetti, pelle nera traforata, sedili completamente elettrici, sono anche riscaldabili elettricamente, volante multifunzione rivestito in pelle, pedal per il cambio al volante, cockpit digitale, ecco i 124.658 km, cruise control, sistema anti salto della corsia, navigatore satellitare cartografico, naturalmente schermo grande, in questo momento abbiamo aperto la finestra delle informazioni, ripeto telecamera, climatizzatore automatico bi zona, cambio sequenziale e automatico, terra in response, quindi controllo elettronico della trazione, specchio auto nabagliante, tetto panoramico in cristallo, i sedili hanno anche le memorie, quattro alzacristalli elettrici, vi mostro il sedile posteriore, perfetto, veramente questa vettura sembra aver percorso pochissime migliaia di chilometri, è fatturabile con IVA esposta, disponibile in pronta consegna con garanzia legale di conformità 12 mesi, possibilità di estensione, vi aspetto a Gursago presso il nostro autosalone Pasolini Auto per vedere, provare ed eventualmente acquistare questa splendida Land Rover, grazie.